Buona domenica, cara sorella e caro fratello. Buona domenica a te che attraverso Radio Bequita Evangelica riesci a collegarti con noi anche attraverso questo video messaggio per un momento di riflessione, di preghiera, di ascolto, di meditazione. Buona domenica a te che sei una persona in ricerca. Buona domenica a te che hai deciso di metterti all'ascolto di una paraola che può trasformare la vita. Buona domenica a te che puoi essere raggiunto non dalla mia voce ma dalla chiamata di un Signore che conosce il tuo percorso di vita e che ti accompagna, che accompagna ognuno di noi nei momenti della gioia e a volte anche nei momenti della difficoltà o del dubbio o del dolore. Che la sua presenza, che la presenza del Signore risorto possa illuminare questo momento e i nostri spiriti inquieti. Il profeta Ezeia dice in una parola molto bella, i miseri e i poveri cercano acqua e non ce n'è. La loro lingua è secca dalla sete. Io il Signore li esaudirò, io il Dio di Israele non li abbandonerò. Ci raccogliamo un istante in preghiera. Vieni, vieni Signore Dio nostro a calmare la nostra fame, la nostra fame di te. Vieni a calmare la nostra sete, la nostra sete di senso, di significato, di speranza, di avvenire. Vieni, Spirito del Signore, a prendere dimora in noi e ad accompagnarci. Amen. In queste due prime domeniche di luglio vorrei proporti due brevi testi che sono tratti dal quarto capitolo del Vangelo di Marco. Il primo, quello di oggi, sono due brevissime parabole. È Gesù che parla e che dice il regno di Dio è come un uomo che getti il seme nel terreno e dorma e si alzi la notte e il giorno. Il seme intanto germoglia e cresce senza che egli sappia come. La terra da se stesso porta frutto prima l'erba, poi la spiga, poi nella spiga il grano ben formato. Quando il frutto è maturo, subito il mietitore vi mette la falce, perché l'ora della mietitura è venuta. E poi Gesù diceva ancora a che cosa paragoneremo il regno di Dio? Con quale parabola lo rappresenteremo? Esso è simile ad un granello di senape, il quale quando si è seminato in terra è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra. Ma quando è seminato cresce e diventa il più grande di tutti gli ortaggi e fa dei rami tanto grandi che all'ombra loro possono ripararsi gli uccelli del cielo. E Gesù non parlava loro senza parabola, ma in privato i suoi discepoli spiegava ogni cosa. Gesù dunque parla, quasi tutte le sue parabole, del regno di Dio. Ci sono molte immagini che lui utilizza, ma in queste parole di oggi il regno di Dio viene paragonato alla leggerezza, diciamo così, di un piccolo seme, un piccolo seme che cresce da solo. Nelle nostre chiese noi continuiamo molto spesso, ma io credo in tutta la cristianità occidentale, continuiamo ad ascoltare voci di preoccupazione, anche molto grave, di lamento, che parlano della secolarizzazione, del fatto che le persone si sono allontanate non tanto dalle chiese ma anche dalla parola di Dio. E sono tutte considerazioni condivisibili se guardiamo la nostra pochezza ovviamente. Ma oggi queste due piccole parabole provano a dirci qualcosa di diverso, sono delle sensazioni diverse che io vorrei condividere con te. Il termine regno, anzitutto, tu come lo tradurresti? Nel Nuovo Testamento indica tante cose diverse. È un territorio governato da un re, ha un carattere di regalità. Regno è anche l'esercizio di chi esercita il potere su un territorio. Regno di Dio, forse tu mi potresti dire, è ciò che dà senso alla vita. È la ragione per la quale ti sei messo l'ascolto questa mattina. È la prospettiva sulla quale vuoi scommettere o vuoi provare a scommettere la tua vita, insomma, anche nel momento in cui prendi congedo dalle persone che tu ami. Regno di Dio è anche la speranza che ti sorregge quando attraversi, come me, la dimensione della malattia, della sofferenza. Regno di Dio è ciò che ti consente di ritrovare la voglia di lottare. Quando la stanchezza aumenta, quando passano gli anni, quando la fragilità nostra diventa più evidente. Nella parabola di oggi Gesù parla di questo regno. In quelle precedenti, nella parabola precedente, che è molto più conosciuta, quella del seminatore, Gesù aveva già detto che il regno di Dio è una realtà debole. Un Dio che sottomette la sua parola, il seme del suo regno in questo mondo, a tutti i limiti ai quali sono sottomesse le nostre parole, le parole umane. Una parola dunque che può incappare in tanti ostacoli diversi, che può essere soffocata la parola di Dio, che può essere ignorata, messa da parte, resa arida. E così riflettiamo su queste due piccole parabole oggi. Noi sappiamo che per il mondo protestante, per gli ambienti protestanti, non è facile a volte parlare di regno di Dio. Forse per i nostri fratelli e le nostre sorelle cattoliche è più semplici, perché in qualche modo la Chiesa, la dimensione della Chiesa, assume la valenza o il significato del regno di Dio. La Chiesa diventa la prosecuzione del corpo crocifisso di Cristo in una certa teologia cattolica. Per noi la situazione è più difficile, è meno definibile. Eppure noi sappiamo che Dio è all'opera e che la sua opera procede, va avanti e cresce. Queste due brevi parabole sono un antidoto contro la rassegnazione, contro le persone che vendono sempre tutto nero. Una rassegnazione che molto spesso è un disincanto, a volte addirittura un cinismo, che alberga anche nelle nostre Chiese e nelle nostre vite. Lo dobbiamo riconoscere. Allora Gesù dice, guarda che il regno di Dio cresce mentre tu non te ne accorgi, mentre tu non fai nulla. Durante la fase del germogliare e del crescere, il seme che puoi buttare nella terra non ha bisogno di essere aiutato, non ha bisogno di essere difeso, non ha bisogno di essere sostenuto da te. Questo seme così debole cresce, progredisce, va avanti. Può darsi, io sono convinto di questo, che noi spesso, pastori e pastore per prima, abbiamo bisogno di sapere che qualcosa almeno dipende da noi. Invece questa parabola ci impedisce, ci vieta qualsiasi presunzione. Non c'è nulla che dipende da noi. Dipende tutto da Dio. Noi siamo chiamati semplicemente a buttare un seme, ecco. E questa parabola ci mette al riparo anche dalle frustrazioni. Perché se poi non vedi dei grandi risultati, immediatamente ti senti frustrato. Qui ci viene detto che ciò che è piccolo, insignificante, diventa grande, a prescindere da quello che tu fai. Conosce una trasformazione straordinaria, diciamo così. E l'agire di Dio è esattamente questo. Ciò che è piccolo diventa grande. E' uno dei paradigmi principali della Bibbia questo. Ti racconto un piccolo fatto, un commentino rabbinico. Ci viene raccontato, in questi racconti che sono ricchissimi di dettagli e di indicazioni, ci viene raccontato che quando gli ebrei fuggirono dall'Egitto portarono con loro i resti, portarono con loro le spoglie di Giuseppe. Sai, Giuseppe, il patriarca, ecco, che dopo tutte le sue vicissitudini era stato venduto, come sappiamo, dai suoi fratelli come schiavo, ma poi era diventato una persona potentissima in Egitto, presso il Faraone. E Giuseppe aveva espresso il desiderio di essere sepolto nella terra di Canaan. E così, quando gli ebrei fuggono dall'Egitto, portano con sé questi resti. E quando Mosè arriva davanti al Marosso, ci dice questo racconto, ordinò le acque di aprirsi per lasciarli passare. Ma il mare, il mare dei Giunchi, quello di cui parla il libro dell'Esodo, gli rispose ma perché dovrei obbedirti io? Io ti ho preceduto di molto nell'ordine della creazione, io sono più importante di te. Però poi le acque del Mar Morto videro quello che rimaneva di Giuseppe, undicesimo figlio di Giacobbe, vilipeso dai suoi fratelli, che poi lui salverà come ricordi dalla carestia. Ebbene quella piccola esistenza perduta divenne ministro del Faraone. Così il Mar Rosso capì che non è necessariamente ciò che viene prima, a dover essere sempre primo, a dover sempre prevalere. E lasciò che le sue acque si aprissero e gli ebrei potessero incamminarsi verso la libertà e verso la vita. Il mare, il mare dei Giunchi, il Mar Rosso, riconobbe in quelle spoglie di Giuseppe qualcosa di umile, di piccolissimo e disse ti lascio passare, vi lascio passare grazie a loro. Io potrei fare molti altri esempi perché Gesù nei Vangeli utilizza ed insiste continuamente su ciò che è piccolo, su ciò che è umile, su ciò che è irrilevante, su ciò che è seme. E ci dice in ogni istante che ciò che è piccolo può diventare grande, diventa grande attraverso l'azione di Dio. L'esistenza stessa di Gesù è stata un'esistenza irrilevante, non ne parlano i libri di storia, non vi sono cronache di quel tempo che raccontano che cosa Gesù abbia fatto, quali guarigioni, quali miracoli, nulla di tutto questo. eppure quel seme che è stato gettato sulla croce del Golgotha in quella notte lontano è diventato qualcosa di importante, è diventato la ragione per cui tu mi stai ascoltando oggi. Tu puoi sapere dunque, sorelle e fratelle, puoi credere che la tua vita non sia un puro processo biologico, ma sia invece una piccola, piccolissima realtà però attesa, accolta, benedetta, custodita da Dio che la vuole nel suo regno. Ecco perché possiamo provare almeno ogni tanto a combattere questo pessimismo endemico che spesso incontriamo. Perché ci viene detto da Gesù che viene messo a nostra disposizione un seme piccolissimo che non dice nulla quando lo guardi, un seme che cos'è? Nulla. Ma Dio può far crescere quel seme, però è Lui che lo può far crescere. Anche qui, anche in questa terra, anche in queste valli, anche in questo territorio, ovunque tu ascolti questa parola. Credere che tutto ciò che è piccolo possa diventare grande e potente. Credere questo significa accettare che non sono le mie e le tue forze a poter fare alcunché, ma che bisogna anzi affidarsi al Signore. C'è una grazia, c'è una consolazione straordinaria in queste parole. La grazia di chi sa che c'è un tempo per ogni cosa. C'è un tempo per lavorare, certamente, dobbiamo mettercela tutta, dobbiamo provare a lavorare ancora di più, dobbiamo avere passione nel nostro lavoro, ma c'è anche un tempo in cui possiamo affidare noi stessi, le nostre esistenze, ma anche la predicazione e la testimonianza evangelica a Dio, a Dio stesso. Ho trovato un testo molto bello di Lutero. Lutero, tu lo sai, lavorò con un'intensità infinita, straordinaria, incredibile. Scrisse più di 600 opere, ha dei tomi significativi, ecco. Riformò la Chiesa di allora, si battè contro tutti e contro tutto. Ci si chiede come abbia potuto un uomo, una piccola creatura umana, fare tutte queste cose. Eppure, e ti cito direttamente le parole di Lutero, Lutero scrisse questo. La sera, quando vado nella mia stanza, io butto le chiavi ai piedi del mio Signore e gli dico, adesso è affare tuo. E aggiungeva, questa creazione che tu hai conservata senza di me, fin dall'inizio del mondo, la potrai ben conservare fino all'eternità. Se per l'onore del tuo nome, per il miglioramento del tuo regno, sarà la tua volontà di fare questo o quest'altro, che la tua volontà sia fatta. E poi diceva ancora, quando scende la sera, e quando scenderà la sera anche sulla mia giornata terrena e sulla giornata terrena del mondo intero, apri la mano, lascia scivolare gli ultimi semi che avevi nel pugno e poi vai a prendere una birra e condividila con i tuoi amici. Io trovo questa immagine straordinaria e straordinariamente consolante. Fai tutto quello che puoi, con tutto l'entusiasmo, con tutta la gioia, con tutta la passione che puoi avere. E poi butta le chiavi al Signore, lascia che sia Lui a portare avanti ogni cosa. E tu, se ce la fai, vai a bere, come diceva Lutero, una birra con i tuoi amici. Così potrai poi prendere sonno e addormentarti nella pace. Amen. E tu, se ce la fai, come diceva Lutero, una birra con i tuoi amici. E tu, se ce la fai, come diceva Lutero, una birra con i tuoi amici. E tu, se ce la fai, come diceva Lutero, una birra con i tuoi amici. Lutero, una birra con i tuoi amici. E tu, se ce la fai, come diceva Lutero, una birra con i tuoi amici. E tu, se ce la fai, come diceva Lutero, una birra con i tuoi amici. E tu, se ce la fai, come diceva Lutero, una birra con i tuoi amici. Lutero, una birra con i tuoi amici. E tu, se ce la fai, come diceva Lutero, una birra con i tuoi amici. E tu, se ce la fai, come diceva Lutero, una birra con i tuoi amici. Fa che possiamo impegnarci in questo mondo per renderlo un poco migliore, un poco innocente, con tutte le nostre forze, con tutta la nostra gioia, con tutta la passione e l'entusiasmo che possiamo avere. Ma poi insegnaci anche ad affidare ogni cosa a te, il nostro lavoro, la nostra testimonianza, i nostri progetti, le nostre stesse esistenze. Sei tu che guidi ogni cosa, sei tu che puoi guidare ogni cosa. Ci vogliamo affidare ogni cosa, tu reggi il nostro destino, reggi il destino delle nostre chiese, reggi il destino dell'umanità, reggi la nostra vita e la nostra morte. E noi possiamo affidarci soltanto a te. Ti preghiamo per tutte le persone che conoscono la dimensione della malattia, del lutto, della depressione, della solitudine, che hanno paura del domani. Fa' che tutti e tutte insieme possiamo affidare a te le nostre domande, che sono rimaste senza risposta, e le nostre paure, e saremo davvero liberi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo o anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci esporga la tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Vogliamo ricevere una parola di benedizione. Vi è una parola biblica, nel profeta, uno dei libri profetici più belli, che ci ricorda che il nostro nome, il tuo nome, sorella e fratello, è inciso nel palmo della mano di Dio. Qualunque siano le tue difficoltà, il senso delle tue colpe, delle tue cadute, dei tuoi fallimenti, ricordati che il tuo nome è inciso nel palmo della mano di Dio. Al di là della paura e dell'incredulità, sappi che il tuo nome è lì, inciso nel palmo della mano di Dio. Tu sei amata, tu sei amato da Dio. Vivi nella sua pace e vai nella sua pace, ora e sempre. Amen. Grazie. 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 Grazie.